salve a tutti amici iscritti e oggi non lo so che questo è l'ultimo video di le collezioni di paolo paoli new su youtube lo so ma tranquilli per colpa del periodo di pasqua non voglio mettere altri video sulle collezioni che escono di settimane mesi e facciamo un mini aggiorgamento allora in verità non vado mai all'euro spin ma qualcuno me l'ha regalato per farci un video non ho preso kevin banana purtroppo ma abbiamo trovato minios free sound bob fragola contiene un personaggio 3d con il suono questo è l'ultimo video che faccio su questo schermo ma poi a maggio o giugno i video successivi come escono anche ti faccio un video già un momento ok le pattatine con le cornici magnetiche di bing e poi sono usciti i 3 pack quelli da 3 forse usciranno da 2 quelli di fast and furious e li recentisco così li recentisco così con lo schermo nuovo con questa è l'ultima volta che registro schermo e questo farà parte prossimamente a giugno nel nuovo canale di super mario gay italia che forse farà un sacco di successo ma tranquilli arriverà il canale 1000 iscritti e faremo metteremo anche gli extra e metteremo paolo paolini o metteremo solo video ufficiali questo è bob fragola vediamo che suono fa blu la abbiamo bob fragola travestito da fr predile sempre un hobboard e questo è una cucinella se levate questa levetta, ecco che cosa succede se usate Bob, che dice? E' come il McDonald's, solo che danno un personaggio, che danno un personaggio alla volta. Abbiamo Bob Fragora, Tim Carotta, Carmela, Carmela, Jerry Pomodoro, Dave Peperoni e Kevin Banana. Dave Peperoni è l'ultimo, ma non voglio sprecare 30 euro per questo, perché fate una spesa a 30 euro e ricevete un Minion Fruit Sound. Non voglio sprecare 30 euro perché voglio collezionare altre collezioni più belle come queste e anche i giocattoli del Toys, quello dei personaggi. Prossimamente porterò sul canale di Paolo Paoli New forse porterò i giocattoli e a maggio porterò i Kinder Joy di Fast and Furious, ma con un nuovo schermo delle collezioni di Paolo Paoli New, con quelli di Topolino. Vabbè, siamo in pausa fino a maggio e noi iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete e noi ci vediamo a maggio, un video alla volta dedicato alle collezioni di Paolo Paoli New, ma peccato che non fa molto successo. Fa molto successo il Siglone Show 2, quello di recensioni di cartoni matti, sono contento che commentate nelle recensioni di cartoni e quello sulle collezioni no. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. per le collezioni Paolo Paoli New a maggio con i Kinder Joy 3 pack dei Fast and Furious e speriamo di collezionare tutti. Ciao! Al prossima Grazie per la visione!